Sei in collegamento con l'Ariston, ma che minchia fai? Ma che stai facendo? Ma tu sbagli i nomi di tutti, che stai facendo? Ti è successo di tutto stasera, hai sbagliato i nomi, quella ha distrutto il palco, quella ha buttato il microfono, quindi ci sta pure che io ti dico che ormai io a questa età non gliela faccio più, questo è tempo per i colla zio, io so colla nonno, non ce la posso fare più. Beh dai, ma è un sacrificio per cinque sere, mica di più. No, 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 è bellissimo, non è un sacrificio, non è un sacrificio, aspettare cinque ore in una stanza è bellissimo. Il nostro show è sponsorizzato da Tananai, guarda le occhiaie. Ti volevo salutare anche Paola Egonu. Ciao, non sarai mica stanco. No, no. Ma perché non lo facciamo qui lo show? Solo così, tu lì e io qui. Dai, finiamola. Va bene, eccola va. Dai, andiamo. Uri!